E' stato il Parco Tè Regina di Bagni di Lucca a tingersi per un sabato pomeriggio di Rosso Blu, a festeggiare e rievocare con un pizzico, anzi anche di più di nostalgia, i fasti e le gesta della locale squadra calcistica che lo scorso 1 maggio ha festeggiato i suoi primi 112 anni dalla Fondazione. Un compleanno in vero amaro, visto che la società ha cessato di esistere ormai da ben sei anni. Una giornata particolare, quindi quella organizzata dal dinamico Fabrizio Giovannini, presidente provinciale dell'Asi. Giovannini si è fatto promotore di una serie di eventi e incontri per valorizzare la cittadina termale che hanno visto arrivare nelle ultime settimane personaggi di rilievo come il campione Chico Evani o il bomber della lucchese Tony Carruezzo. In veste di moderatore e relatore è stato chiamato Andrea Dinelli, ex dirigente Rosso Blu, che ha ripercorso con la sua solita brillantezza e ironia attraverso racconti, storie, leggende e aneddoti oltre un secolo di calcio locale. A leggere alcuni passi di storia del bagno di Lucca e anche di aneddoti è stata la volta poi del tenore Claudio Sassetti, dall'epoca pionieristica sino ai favolosi anni 50 con la quarta serie, dal grande bagno di Lucca della rinascita sino ai giorni nostri. I veri protagonisti sono stati anche loro, i vecchi dirigenti, gli ex allenatori e i giocatori presenti in sala con le loro testimonianze per un vero spaccato di calcio antico ma sempre moderno. Tra questi abbiamo notato Paolo Giovannini, direttore generale del Ponte d'Era, e l'allenatore Fabrizio Gino Tazioli. Tra l'altro, ora che anche il Givi Borgo è tornato a casa e gioca al Carraia di Givizzano, lo stadio delle terme di Bagni di Lucca, che un tempo era un piccolo gioiello, è diventato ormai una sorta di vetusta cattedrale nel deserto. I segni del tempo e di un'epoca che a noi non ci sono più.